Ciao amici, sono Lox, bentornati su Infatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Serie B, sto risalendo questa giornata numero 34 che si è giocata nel weekend, l'ultima partita della quale vi volevo parlare è stata Brescia contro Ternana. Finita 0-0, un risultato importante perché permette a entrambe le formazioni di andare avanti nella lotta dei propri obiettivi. Il Brescia è lì nei confini della zona play-off, settimo con 46 punti, 2 di vantaggio sul Pisa che è nono, dopo il suo pareggino contro il Bari, la Ternana è ancora fuori anche dai play-out, quindicesima, 37 punti, 1 di vantaggio sui play-out, 3 di vantaggio sulla zona salvezza. Una partita interessante, una partita nella quale il Brescia è partito meglio, ha avuto diverse occasioni, ma neanche tantissime, poi di fatto quantomeno ha avuto più pressione, più possesso nella prima parte della gara, fino a circa il trentesimo, poi la Ternana è venuta fuori, ha giocato un buonissimo secondo tempo, nel quale ha avuto anche la chance di vincere. Nel finale il Brescia nel recupero ha avuto ancora un paio di occasioni, una partita viva, una partita tra due squadre che stanno giocando un buon campionato, il Brescia ha dimostrato, a differenza da quello che è successo all'Ecco, per esempio, che anche se non si sa fino a pochi giorni prima delle decisioni, dei consigli federali, di tutto quello di confusionario che succede d'estate, a quale campionato si apparterrà, se poi si lavora bene il campionato, lo si può fare comunque in maniera positiva. L'Ecco ha atteso la decisione incredibile del Consiglio, ed è riuscito a giocare comunque in Serie B e ha fatto un campionato tremendo, il Brescia invece è lì che lotta per andare ai play-off, e questo va a merito della formazione bresciana e anche del buon lavoro comunque che sta facendo Maran, che non è magari un allenatore scintillante, però si è sicuramente ripreso rispetto alla stagione complicata che ha avuto Alpisa lo scorso anno con il fresco esonero, con l'esonero dopo poche giornate e il ritorno di D'Angelo. Per quanto riguarda la Ternana, una partita ancora molto incoraggiante, io ripeto la mia candidatura all'allenatore dell'anno, secondo me il terzetto dal quale può uscire l'allenatore dell'anno è Pecchia per il buonissimo lavoro col Parma, Vivalini per quanto ha fatto con il neopromosso Catanzaro, è breda ragazzi perché con questa Ternana, con questo mercato, con questo parco giocatori sta facendo un miracolo non solo in termini di risultati, ma anche proprio delle prestazioni, perché appunto se si eccettua la prima mezz'ora, la Ternana, dove comunque non è che avesse sofferto in maniera tremenda la squadra Umbra, le fere da quel momento sono state veramente molto brillanti e per certi versi avrebbero meritato anche di vincere questa sfida. Peraltro il gol lo hanno anche fatto e qui rientriamo nella mia solita battaglia di distruggere, annullare completamente il VAR, eliminarlo dal gioco del calcio, perché così non va bene. In Serie B, mondo minore, a quanto pare considerato che non abbiamo la golla in technology, c'è questa mischia in area, questa battaglia, questa azione lunghissima, la palla che viene spinta da Luperini, probabilmente nella porta, ci sono diversi replay, buonaccina stavolta dal campo, con vari dalla rete, che poi viene annullata dal VAR, a mio avviso senza che ci siano grandissime immagini per fare il cambio della decisione. Secondo me ci poteva benissimo stare di mantenere il gol, rimane che il VAR è difficile da utilizzare in questa circostanza, perché credo non ci possa essere l'imbagine realmente dirimente, per questo serve la golla in technology, che si usa da secoli, è una delle poche cose sulle quali probabilmente possiamo fare affidamento, ed è un peccato che in un campionato importante con la Serie B, con una posta in paglio così alta come in queste ultime giornate, debba succedere un fatto del genere, cosa che trovo assolutamente disdicevole. Peraltro il buonaccina, credo arbitro che non mi piace assolutamente, lo scorso anno abbiamo parlato tante volte, protagonista della promozione dell'Eco, con l'incredibile direzione di gara nella partita di andata, nel playoff contro il Foggia, nella finale contro il Foggia, è un arbitro che stavolta, penso abbia fatto una prestazione di suo sufficiente, poi è stato penalizzato dalla folia del Vat, Terlana che nel secondo tempo ha colpito la traversa, ha avuto delle chance avanti alla porta, ne ha colpita un'altra, ha fatto un altro gol Luperini, ma in questo caso c'era un fuorigioco in iniziazione di Di Stefano, è una Terlana sicuramente in fiducia, in salute, e che sa ovviare anche ai continui colpi, anche dalla malasorte, perché ci si è messo piuttosto che niente anche l'infortunio di Capuano, grande leader della difesa, ho letto che per lui la stagione è finita, quindi ora si affrontano le ultime giornate di la stagione, con una squadra veramente rimaneggiata là dietro, nella quale però dovrebbe rientrare nel gruppo Sorensen, quindi perché no, magari il grandissimo centrale danese potrebbe essere il protagonista di questa fase finale. Alla Terlana rimane, mi perdonerete, un buco lì in mezzo al campo, non c'è il regista, c'è una difficoltà infinita, ma Tucci penso abbia giocato una partita molto insufficiente, regia non se ne è vista neanche un po', la squadra riesce comunque, va un po' via sulle fasce, fa qualche bel lancio lungo, c'ha Perero che ogni tanto riesce a sviluppare gioco, le punte là davanti, si sbattono, si impegnano, Dionisi l'ho visto molto bene, e perché no, magari nella gara contro l'aschio del weekend, potrebbe essere protagonista, e poi c'è Casasola soprattutto in grado di costruire occasioni da gol, è una Terlana davvero viva, efficace, davvero peccato solo che dal mercato non è riuscito ad arrivare, non è mai arrivato questo giocatore lì in mezzo al campo che potesse a mio avviso veramente cambiare il corso della stagione. Prima delle pagelle, ricordatevi che dovete fare un regalo a un'amica, a una fidanzata, alla fidanzata, alla moglie, a una ragazza che vi piace, o perché no, una lettura per voi, La Bruma del Cuore, il mio libro di poesie, 36 poesie d'amore, che vi fanno fare sicuramente una bella figura nei confronti della persona a cui lo regalate. Peraltro, settimana prossima, Brescia contro Spezia, splendida, perché il Brescia in lotta per i playoff, lo Spezia ancora in lotta per cercare di salvarsi, e devo dire, da questo punto di vista, ero convinto che la squadra di D'Angelo sarebbe riuscita a venire fuori, dare secchi, invece no, è ancora lì a lottare fino alla fine, Terlana-Ascoli è la partita del continente, credo non esista una gara di così tanta importanza, di così tanta bellezza, e sabato la seguirò live. Peraltro poi, notizia, mi sto organizzando per venire a vedere una partita in casa finalmente della Terlana, cosa che quest'anno non sono riuscito ancora a fare, credo che sarà Terlana-Catanzaro, mi sto organizzando per quella giornata, in maniera tale anche da vedere un'altra squadra del canale come il Catanzaro, e sarà una bella occasione, una partita anche fondamentale del Catanzaro che ancora in lotta per cercare di agguantare una posizione anche migliore nei play-off, e la Terlana che sta lottando per salvarsi. Pageli di questa gara, poi attendo i vostri commenti, 6,5 a Lezzerini, 6 a Dickman, 6,5 a Cistana e ad Adorni, 6 a Iallo, 7 a Bisoli, 6,5 a Paghera, grande Paghera, idolo totale, e regista in questa squadra, 6,5 a Besaggio, poi sostituito, forse perché a Monito non mi stava dispiacendo, 6 a Galazzi, 6 a Bianchi, 6,5 a Moncini, dei subentrati, 6 a Bertagnoli, positivo Vandeloi, 6,5 a Maran, per il Terlana, 7 a Vitali, sicurezza totale, mi sta piacendo moltissimo, 7 a Dallemura che sta crescendo bene, 7,5 a Capuano, voto anche alla stagione, e ha giocato veramente molto bene, in situazioni non facili, con compagni giovani, è stato veramente un baluardo difensivo, peccato per l'infortunio molto sfortunato in questo momento della stagione, 6,5 a Lucchesi, 6,5 a Casasola, e a Luperini, mi spiace, 5 a Damatucci, 6 a Debor, 5,5 a Carboni, 6,5 a Pereiro, 6 a Raimondo, dei subentrati, 7 a un ottimo Dionisi, 5,5 a Di Stefano che stavolta non è entrato bene in partita, 6 a Favasuli, 6,5 a Breda, come vi ho detto per me Bonacina stavolta merita 6, peccato, è stato sfortunato col VAR, che credo gli abbia fatto fare in realtà invece un errore, e soprattutto ha tolto due punti che sarebbero stati fondamentali alla Terlana, anche se, va detto, il gol era al trentesimo, c'era poi tutta un'altra partita, quindi da questo punto di vista è troppo semplicistico dire che sarebbe finita 1-0 per la Terlana, quindi vi chiedo scusa perché questa penso non sia una grandissima conclusione. Comunque rimane che secondo me quello era gol per la Terlana, grazie ragazzi, iscrivetevi al canale Serie B nel weekend, qualche partita spero finalmente di riuscire a coprirla un pochino più nei termini anche della cronaca, grazie, alla prossima, iscrivetevi, un bacio da Lox.